Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Sono 41 le persone ricoverate in bolla covid, 11 in terapia intensiva, con un calo che sicuramente rappresenta in questo caso un'ottima annotazione, 1.258 le persone guarite, 1.263 i tamponi risultati positivi con il numero più elevato ad Arezzo. Si parla della piscina comunale, l'ordinanza è stata emessa dal sindaco Alessandro Ghinelli nel tardo pomeriggio di martedì, d'intesa con l'ASL, fino a quando il legale rappresentante della piscina comunale non chiederà di esibire il Green Pass e quindi di adeguarsi alle disposizioni, la piscina non potrà svolgere regolarmente la propria attività. Dal canto suo, il gestore del Palazzetto del Nuoto, anche di recente, ha riaffermato che solo il certificato medico è il documento che attesta lo stato di salute di una persona. Sono stati nominati i tre delegati toscani che parteciperanno alle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. Sono il consigliere Landi, oltre al Presidente Gianni, Presidente della Regione e della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Queste erano le nostre breaking news.